Riccardo Ravasini è nato a Padova nel 1981, ha studiato a Milano laureandosi alla Bucconi. Nel 2005 sbarca negli Stati Uniti e da lì inizia a costruire il suo sogno americano lavorando nel settore real estate a New York City. Riccardo racconta ad Exportiamo la sua storia, fornendo elementi utili per fare investimenti immobiliari nel paese a stelle strisce ed in particolar modo nella città che non dorme mai. Grazie per aver accettato l'invito di Exportiamo e per la tua disponibilità. Raccontaci la tua storia, come sei arrivato negli Stati Uniti e perché hai deciso di vivere e lavorare nella Grande Mela? Sono arrivato negli Stati Uniti nel 2005 a seguito di essermi laureato alla Bucconi e quindi avere avuto l'opportunità di fare uno stage qua a New York nel settore finanziario. E quindi nell'estate del 2005 fui qua per prima tre mesi, poi tornai per altri tre mesi di stage. Quindi quello fu il mio primo periodo a New York da post laureato. Dopo quel periodo iniziai a guardarmi intorno perché quell'esperienza era finita a quel punto e ovviamente avevo preso in considerazione diverse opzioni per il mio futuro, dato che non ero ancora impiegato presso alcuna istituzione. Mi sono guardato intorno e dopo qualche tempo sono entrato in contatto con il settore immobiliare e ho capito come funziona il mercato qui a New York e in generale anche negli Stati Uniti. Quindi sostanzialmente il livello di efficienza e di trasparenza che è apportato dagli organismi che regano il mercato sia a New York che a Miami, che è l'altro mercato di cui mi occupo, veramente propongono un livello di efficienza talmente elevato che mi diede l'opportunità di capire che un servizio al cliente, potevo offrire un servizio al cliente veramente elevato e quindi propormi non solo come agente immobiliare ma quindi anche come consulente a livello di investimenti per chi volesse prendere in considerazione investimenti immobiliari sia a New York che dopo anche a Miami. Il mercato immobiliare americano ha vissuto negli ultimi 15 anni fasi altalenanti, in particolare quello legato alla città di New York. Nel 2001 l'attentato alle torri gemelle e nel 2009 la crisi dei mutui subprime. Come hai vissuto quei momenti dal punto di vista professionale e che situazione c'è adesso per i nuovi potenziali investitori? Investire nell'immobiliare americano conviene sempre e comunque? Io non ero ancora presente qua durante la crisi avvenuta dopo il crollo delle torri gemelle e diciamo entrai nell'immobiliare a ridosso della crisi finanziaria quindi se vogliamo quella fu la mia prima esperienza e quindi una sfida in più per me quando cominciai in questo settore quindi non posso paragonare questo periodo, quindi post 2008 a periodi precedenti perché la mia esperienza parte da quel momento però in un certo senso mi ha aiutato a formare il carattere, a formare la mia esperienza proprio nel momento più difficile dell'economia quindi un'altra cosa che penso sia molto importante è che New York ha proprio dimostrato di essere un mercato così solido durante appunto l'ultima crisi finanziaria perché sì è vero che ci sono state delle flessioni nei prezzi ma rispetto ad altri mercati i valori non sono scesi tremendamente magari a volte 15 o 20% ma anche chi comporò diciamo al picco precedente al 2008 dopo qualche anno se aveva l'opportunità appunto di mantenere l'immobile senza venderlo si sarebbe ritrovato con lo stesso valore di quando l'aveva acquistato e comunque con una rendita d'affitto perché gli immobili a New York si sono sempre affittati anche durante la crisi magari con un piccolo sconto ma quel problema non è mai esistito quindi in un orizzonte di lungo periodo sicuramente investire nell'immobiliare a New York è sempre una cosa buona Il tuo servizio si rivolge a investitori che agiscono come privati ed aziende commerciali che ricercano location per il loro sviluppo retail ci racconti che cosa cercano gli investitori esteri negli Stati Uniti? Che zone stanno crescendo di più? Gli investitori esteri in America se si occupano di retail in particolare io seguo più la ristorazione che altri settori quindi ovviamente sono italiano, molti italiani che vogliono venire qui e provare a sviluppare il loro concetto se magari sono già stabiliti in Italia penso che New York offra una grande opportunità come un laboratorio test per loro per capire se veramente il loro concetto può funzionare qua a New York perché se funziona chiaramente è più difficile di altri mercati perché è più costoso di altre città ovviamente però il volume di persone che possono vedere, provare o un ristorante o i prodotti offerti da un negozio è talmente grande, è una piattaforma talmente importante che poi può dare l'opportunità all'imprenditore di espanderla anche a livello nazionale in America e in altre città Gli investitori privati, comunque la maggior parte del mio lavoro riguarda il settore residenziale quindi molti privati o piccole aziende che vogliono investire in immobili in appartamenti appunto da comprare, ammobiliare e poi affittare o semplicemente da comprare e affittare o anche palazzine quindi stessa cosa alcune palazzine che necessitano di una ristrutturazione possono essere comprate, rimesse a posto e poi messe a reddito oppure rivendute se appunto dipende da che tipo di mercato esiste in quel momento Diverse zone stanno crescendo molto e ci sono dei progetti che sono particolarmente importanti per esempio nel lato ovest di Manhattan c'è un progetto che si chiama Hudson Yards che continua lo sviluppo già presente nella zona ovest che partì 15 anni fa o 14 anni fa con il Meatpacking District quando nuovi ristoranti aprirono là, dopodiché ci furono nuovi condomini questo trend continua adesso a nord quindi dalla quattordicesima strada stiamo proseguendo verso nord e attorno alla trentesima strada sul fiume Hudson c'è appunto questo progetto enorme che è in fase di costruzione che in pratica costruirà una piccola cittadella all'interno della città stessa con 10-11 grattacieli che avranno retail, space, avranno uffici avranno supermercati, avranno appartamenti quindi questo è un progetto molto interessante chi ha l'opportunità adesso di comprare vicino a questa zona ovviamente si posiziona bene per un apprezzamento futuro per esempio questo è uno, dal lato est invece c'è la Second Avenue Subway che è un grande progetto che dovrebbe aprire nei prossimi due anni la prima fase proprio nell'Upper East Side dalla 96esima alla 59esima strada quindi anche lì è una zona interessante perché ci sarà questa nuova amenity che arriverà adesso l'Upper East Side può essere sottoservito dai mezzi pubblici e se si investe adesso in un orizzonte di lungo periodo può essere molto interessante mantenere una posizione in quella zona un'altra zona che mi piace molto è Harlem dove fra l'altro vivo una zona con una storia molto bella, molto interessante, molto ricca fu costruita alla fine, la maggior parte degli edifici fu costruiti alla fine dell'Ottocento e ai primi del Novecento per persone molto abbienti fra l'altro per le persone che abitavano downtown poi come sappiamo la storia subì dei cambiamenti ci fu in quell'epoca una bolla immobiliare nel 1905 che cambiò le cose comunque a livello architettonico di base quella zona è molto bella adesso, a partire dagli anni 2000 dopo il piano regolatore fu cambiato nuovi condomini furono costruiti cominciarono ad essere costruiti appunto dagli primi anni 2000 e adesso questo trend sta continuando quindi tutta la zona sta diventando come si dice qua gentrificata dove nuovi giovani lavoratori o famiglie si spostano e comprono magari il loro primo appartamento quindi cambiando un pochettino il feel della zona stessa che sta migliorando è interessante perché siamo comunque a Manhattan personalmente è molto importante rimanere sull'isola di Manhattan perché appunto il fatto stesso che sia un'isola quindi il territorio sia limitato dà l'opportunità all'investitore di mantenere il valore del suo investimento e molto probabilmente anche guadagnare bene insomma Harlem essendo scontata adesso la mia idea è che possa crescere e avvicinarsi alla media dei prezzi di Manhattan nei prossimi 10-15 anni quindi secondo me può crescere ad un passo che è un pochettino più veloce rispetto alla media complessiva di Manhattan una meta molto gettonata per gli italiani negli ultimi anni è stata Miami tu operi anche in quel mercato perché molti connazionali hanno investito lì e che tipologia di prodotto consiglieresti ai tuoi potenziali clienti e in quali zone? anche in Miami è un mercato molto interessante è la seconda città dopo New York che gli investitori internazionali considerano in particolare i miei clienti ovviamente molti dei quali sono italiani la cosa interessante di Miami è che c'è un livello di costruzione e di progetti pianificati per Miami e le zone vicine a Miami veramente grande nei prossimi 5 anni circa verranno costruite qualcosa come 38.000 nuove unità condomini qualcosa come 38.000 appartamenti saranno disponibili sul mercato secondo me questa è una cosa molto positiva perché lo vedo il trend positivo di Miami continuare nei prossimi decenni perché le nuove tecnologie ormai danno la possibilità alla gente di molti professionisti di lavorare in maniera remota quindi non tutti oggi come oggi devono andare in ufficio e se puoi scegliere fra vivere in una città del nord che durante l'inverno ovviamente è molto fredda oppure stare vicino al mare stare al caldo tutto l'anno molte persone adesso stanno decidendo di trasferirsi in Florida una volta erano solo pensionati o la maggior parte delle persone erano i pensionati che decidevano di andare in Florida ormai si può lavorare in maniera remota quindi questo fatto aiuterà molto Miami nei prossimi decenni come dicevo la maggior parte dei miei clienti sono italiani la mia esposizione ad altri investitori internazionali è meno importante degli italiani comunque lavoro con parecchi brasiliani ultimamente perché quella parte del mondo sta crescendo molto e quindi ci sono persone che possono permettersi di investire a Miami e soprattutto da parte loro è una meta più vicina e quindi Miami è interessante perché sta diventando un po' il fulcro anche del Sud America di quelle persone che stanno facendo bene in Sud America in generale e quindi vogliono mettere un po' di soldini in un mercato che offre delle garanzie come il mercato americano Che livello di imposizione fiscale accompagna l'acquisto di un immobile in America? Consigli la costituzione di una società di diritto locale? Che costi amministrativi e gestionali comporta? Consiglio di costituire una società Molto spesso se un privato vuole comprare un appartamento si costituisce una LLC che sarebbe qualcosa di simile a una SRL italiana Questo gli dà l'opportunità di avere un pochettino di anonimato di mettere un filtro fra se stessi e il loro investimento Comunque l'importante è che poi si rivolgano ad esperti come avvocati e commercialisti che veramente vadano in dettaglio riguardo queste cose L'immobile più bello che hai trattato a New York e a Miami? Non voglio fare preferenze però quello che conta secondo me è guardare sempre al futuro quindi per esempio adesso ci troviamo in un appartamento che è stato recentemente acquistato dal mio cliente quindi per me è sempre importante vedere il presente e il prossimo futuro come la cosa più importante ovviamente il primo immobile che ho trattato quello che rimane nel cuore è un immobile che situa nel numero 75 di Wall Street quindi quella è una cosa importante per me è stata una prima meta importante Nel 2005 ti sei trasferito a New York hai fatto la scelta giusta Cosa consiglieresti a chi decidesse di fare la tua stessa scelta di trasferirsi oltreoceano? Questa è una città particolare con un'energia speciale la mia città preferita al mondo e con molte opportunità per chi ha voglia di fare quindi sì consiglio di venire e consiglio di portarsi con sé tre cose una è il coraggio perché devi avere un po' di coraggio per lasciare le cose che ti sono più conosciute le cose che ti sono più care a casa e cominciare una nuova esperienza la seconda è la pazienza quindi quando si comincia una nuova avventura ovviamente ci vuole del tempo per cominciare a vedere dei risultati soprattutto se magari si vuole scegliere una strada come la mia dove sei un libero professionista quindi ti devi costruire il tuo business insomma e la terza è l'ottimismo perché ci sono sempre dei momenti più bui dei momenti più scuri delle difficoltà che arrivano quindi l'ottimismo è sempre una componente essenziale ma la cosa aiuta qua in America la maggior parte delle persone sono ottimiste quindi si è anche aiutati in quello grazie Riccardo